Ciao ragazzi e benvenuti qua su Life in Tech con un nuovo video, oggi facciamo la recensione completa del nuovo Razor 40 Ultra di Motorola quindi ovviamente rimanete con me dopo la sigla Prima di iniziare mi invito a mettere un mi piace e iscrivendovi al canale, attivando anche la campanella, supportate il mio canale di YouTube quindi mi invito a farlo, siamo in tanti, però molte persone vedono il mio video e magari non mettono il mi piace o si dimenticano di iscrivere e schiacciare sul pulsante se lo fate io vi ringrazio molto anche perché così aumentiamo anche la nostra community ma non perdiamoci in chiacchiere e parliamo subito di questo Razor 40 Ultra che ho avuto in prova nell'ultima settimana e devo dire ragazzi in confronto al Razor 2022 qui sono stati fatti dei passi da gigante sia in termini di design che a livello costruttivo, già comunque era a livello premium però devo dire che tutta la questione dell'interfaccia e l'usabilità del secondo schermo sono veramente eccezionali voglio anticipare che io come secondo telefono utilizzo già uno Z Flip quindi sono già nel mondo dei pieghevoli e l'utilizzo regolarmente quindi devo dire la verità, ho cercato di capire se tutto quello che io faccio direttamente con lo Z Flip effettivamente l'utilizzo di tutti i giorni e l'usabilità va a migliorarsi con questo Razor di Motorola e ahimè, devo dire la verità, io sono un sostenitore di Samsung per la questione dei pieghevoli perché è stata una delle prime a puntare veramente tanto su questo mondo però al momento Motorola secondo me la vince e perché? Perché Motorola è riuscita a rinnovarsi fin dal primo Razor che in realtà aveva la eSIM era un telefono che si vedeva che era proprio a livello embrionale, prototipale perché aveva il design con la notch stile Motorola V3 quindi voleva proprio richiamare quell'effetto nostalgia ma a livello di display ad esempio e di qualità costruttiva non era perfetto anzi non aveva la possibilità di tenere il telefono a diverse angolazioni ma era semplicemente una molla che andava aperta o chiusa poi successivamente nella generazione successiva è stata migliorata un pochino questa cosa fino ad arrivare alla generazione dell'anno scorso appunto che il form factor è cambiato radicalmente quindi andando un po' a copiare quello che è il competitor quindi Z Flip e ovviamente tutti gli altri compresa Huawei, Oppo eccetera eccetera hanno copiato quel form factor a conchiglia con l'utilizzo di questa cerniera appunto che rimane in diverse angolazioni appunto per andare a sfruttarla quando dobbiamo ad esempio fare una foto quindi andiamo a lasciare il telefono appoggiato su una superficie e utilizziamo le fotocamere esterne per fare la fotografia questa è una di quelle funzioni secondo me più importanti di questi pieghevoli perché è quella che alla fine la gente utilizza nell'utilizzo quotidiano anche perché vi devo dire che la fotocamera selfie in realtà io l'ho utilizzata veramente pochissimo secondo me è soltanto per fare non dico neanche i selfie per fare le videochiamate quindi per avere un display grande quindi quando apriamo il nostro telefono abbiamo il display per fare ad esempio le videochiamate su whatsapp allora si ha un senso ma per tutto il resto quindi selfie video o qualsiasi altra insomma foto video che dovete fare utilizzerete solamente e esclusivamente le fotocamere fuori non perché non lo potete fare con quella interna ma perché hanno una qualità quelle fuori talmente migliore rispetto a quella interna che effettivamente non c'è l'utilizzo di utilizzarla per quelle funzionalità perché dico ciò perché il display esterno che l'anno scorso era già maggiorato e quest'anno è veramente enorme sono 3,6 pollici veramente una dimensione diciamo immensa che in realtà va a coprire praticamente la totalità del telefono sulla parte anteriore è un secondo schermo ed è questa la funzionalità e secondo me la killer feature quindi la funzionalità che stravolge tutto quanto perché l'utilizzo di questo schermo non è limitato solamente a qualche funzionalità magari per far vedere la fotocamera quando dobbiamo scattare le foto ma è semplicemente una costola dello schermo interno di fatti potete customizzarlo come volete potete inserire le applicazioni praticamente tutte le applicazioni perché funzioneranno nativamente come se fossero delle applicazioni sul display principale e di fatti potete utilizzarlo per tutto quindi google maps youtube disney plus waze chi più ne ha più ne mette in realtà funzioneranno magicamente senza nessun tipo di problema e nessun tipo di lag addirittura comparirà la tastiera se siete in google maps potete vedere i video su disney plus netflix o altri servizi streaming insomma in realtà potete rispondere ai messaggi anche su telegram a mandare un audio o a legare una foto quindi in realtà tutto quello che fate normalmente con un telefono col display grosso in realtà potete farlo col display chiuso la domanda ovviamente sorge spontanea perché dovrei utilizzare quello esterno che è più piccolo rispetto a quello interno? per una questione di usabilità perché noterete se acquisterete questo telefono che la maggior parte delle volte avete bisogno di qualcosa di compatto ed è forse il principale motivo per cui andrete a comprare questo telefono quindi per avere un tasca o comunque un telefono con un display normale diciamo di dimensioni normali ma che richiuso non si sente neanche in tasca è veramente una piacevole sensazione avere un telefono che non pesa in tasca e nell'era dove ci sono telefoni come il iphone pro max o s23 ultra che sono comunque dei telefoni abbastanza importanti una situazione di questo genere è veramente una manna dal cielo se avete bisogno proprio magari di portarvi un telefono magari nel taschino avere comunque non tutto quel peso di un telefono e non perdere nessuna funzionalità perché sostanzialmente potete fare tutto quello che fate con un altro telefono android di fascia alta lo potete fare anche qua perché comunque non abbiamo delle carenze sotto l'aspetto tecnico infatti abbiamo uno Snapdragon 8 generazione 1 abbiamo 8 giga di ram con 250 giga di rom più che abbastanza per l'utilizzo di tutti i giorni abbiamo una fotocamera principale che è veramente ottima scatta delle foto e di video anche a 4k a 60 frame veramente molto molto buoni rispetto alla generazione dell'anno scorso vi devo dire la verità è migliorata molto l'anno scorso si perdeva molto nella saturazione dei colori la stabilizzazione ottica funzionava e anche no insomma quest'anno veramente le fotocamere sono un portento la principale ad esempio è una focale da 1.5 è molto luminosa e addirittura nell'utilizzo di scarsa luminosità vi posso garantire che le foto rimangono comunque di buona qualità abbiamo la funzionalità macro che funziona sull'ultra wide che anch'essa è molto buona e la qualità del dettaglio si vede che non è soltanto data dall'elaborazione di immagine via software ma anche da un'ottica che comunque ha il suo perché e poi comunque non posso non parlare della qualità costruttiva che come ho detto prima è migliorata nel corso delle generazioni di questi Razor e qui siamo arrivati a un livello secondo me simile a quello di Samsung ovvero delle cerniere fatte bene senza scricchioli qualitativamente molto resistenti e devo dirvi la verità la percezione nell'utilizzo di tutti i giorni è veramente molto alta l'anno scorso la cerniera mi aveva fatto un po' storcere il naso perché si ballava ma veramente tanto adesso c'è un pochino di gioco ma è veramente pochissimo e devo dirvi la verità la cerniera mi ha sorpreso veramente tanto ed era secondo me uno di quei punti dove doveva lavorarci sopra ed effettivamente l'ha fatto per quanto riguarda i materiali abbiamo una scocca completamente in acciaio un back cover in plastica a livello premium bella e piacevole al tatto abbiamo poi Gorilla Glass Victus sulla parte frontale che copre ovviamente lo schermo secondario e il trattamento oleofobico quest'anno funziona l'anno scorso era un po' così rimanevano veramente tante di tate quest'anno si rimangono si pulisce però più in fretta ed effettivamente non danno particolarmente fastidio quindi vuol dire che Motorola un po' ha lavorato anche su questa situazione qua per quanto riguarda invece la batteria abbiamo una 3800 mAh quindi maggiore rispetto a quella dell'anno scorso che ci fa tranquillamente arrivare a sera nel senso che in un utilizzo normale di tutti i giorni non avrete questo tipo di problema ovviamente se andate a utilizzarlo a pieno quindi con video 4k utilizzo di internet e di video contenuti in maniera veramente importante eccetera eccetera farete un po' di fatica però vi posso garantire che sia la ricarica da 30 watt col filo dove trovate ovviamente il caricatore e il cavo incluso nella confezione che non è da poco come situazione perché è veramente difficile trovare in questo periodo questa dotazione e non solo anche le cover in plastica belline da mettere sopra per andare a proteggerlo un pochino non avrete nessun tipo di problema per arrivare tranquillamente a sera o comunque ricaricare il vostro telefono in maniera veloce inoltre se volete c'è anche la ricarica a induzione quindi 5 watt per andare a ricaricare wireless quindi in una situazione ad esempio in macchina o se avete magari anche l'alimentatore MagSafe potete appoggiarlo sopra a qualsiasi alimentatore C potete ovviamente caricarlo la carica sarà ovviamente più lenta però c'è anche questa possibilità appunto che non è da poco ed infine parliamo del software che non è nient'altro che un Android stock con qualche piccola applicazione di Motorola implementata e devo dire che a livello di customizzazione sia della parte diciamo del software sul display interno è veramente molto importante perché c'è un livello di customizzazione veramente alto potete veramente sbizzarrirvi con colorazioni, immagini, tipologie, cambiare le icone veramente vabbè questa è una prerogativa di Android ovviamente chi è abito ad utilizzare Android sa già questo però Motorola lo fa appena uscito dalla scatola quindi avete una personalizzazione veramente divertente insomma da sfruttare e soprattutto con diverse funzionalità ad esempio semplicemente facendo questo movimento qua si attiva la fotocamera oppure sollevare per attivare il telefono ci sono un sacco di funzionalità veramente avanzate simpatiche da utilizzare e che secondo me se comprate questo telefono dovete andare a sviscerare l'interno del menu se ancora non l'avete visto ho fatto un video delle impostazioni da attivare riguardo al Razer dell'anno scorso non penso che lo farò di quest'anno perché è molto simile però se non l'avete visto vi invito a vedere quel video perché insomma sviscerò un bel po' di funzionalità del software di Android sui Motorola ed infine ragazzi dopo tutto quello che abbiamo detto il mio voto non può che essere positivo di questo Razer e di fatti mi ha veramente sorpreso io sono rimasto sbalordito dalla qualità costruttiva l'utilizzo di tutti i giorni il software che non si impunta praticamente mai e funziona veramente super veloce dato anche da ad esempio dei display che arrivano fino a 165 Hz quindi è una fluidità veramente impressionante ragazzi non scalda neanche particolarmente nell'utilizzo anche multimediale e devo dire che è veramente ben bilanciato forse grazie anche a uno Snapdragon 8 generazione 1 che funziona molto bene e che è sostanzialmente un processore veramente di fascia alta e quindi fa girare veramente il tutto in maniera veramente perfetta io sono ripeto molto soddisfatto di questo telefono il prezzo ovviamente 1199 euro non è da tutti è un prezzo abbastanza premium però vi posso garantire che è pienamente giustificato e si va a piazzare in un mercato che secondo me è il suo nel senso che in realtà a livello di prestazioni a livello proprio di utilizzo di tutto quello che ne consegue in uno smartphone non ha nessun tipo di limitazione quindi può tranquillamente essere utilizzato tutti i giorni senza nessun tipo di problema e poi comunque ragazzi il form factor cioè l'idea di avere una cosa così piccola che comunque si apre a uno schermo veramente enorme è soltanto per i flessibili è soltanto per i pieghevoli e devo dire la verità a me questi pieghevoli piacciono veramente tanto poi quando escono bene come questo Razor 40 Ultra mi piacciono ancora di più bene ragazzi anche il video di oggi finisce qui spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto attivate la campanella e rimanete sempre aggiornati su tutti i video anche su Facebook e Instagram che sono le mie pagine social noi ci rivediamo sempre qua su Life & Tech probabilmente dopo l'estate perché adesso andremo tutti in vacanza con un nuovo video nuova recensione, unboxing e insomma qualsiasi altra cosa noi ci rivediamo sempre qua sul canale sintonizzati su Life & Tech ciao ragazzi alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti